Il matrimonio tra il celebre cantante e la sua attuale compagna rimane sempre molto discusso. Ma finora entrambi hanno scelto di mantenere un certo riservo. Recentemente, durante un'intervista con il periodico Mio, i giornalisti hanno riproposto la domanda sul possibile matrimonio, chiedendo all'artista un suo parere sull'argomento. Nonostante il cantante sia già stato sposato con Romina Power, e sembri considerare il matrimonio un capitolo chiuso, quando il giornalista gli ha chiesto se l'ondata di nozze tra celebrità lo avesse ispirato a considerare il matrimonio di nuovo. Lui ha risposto con ironia. Ce l'ha con me? C'è chi spera di vedere Loredana Lecciso come futura sposa. Ma il cantante non sembra particolarmente incline all'idea. Quando gli è stato riferito che Giovanni Ciacci avrebbe espresso il desiderio di vederla tra le prossime spose VIP, Albano ha risposto chiaramente che ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni. Ma lui non considera il matrimonio una priorità al momento. Nel corso dell'intervista, si è discusso anche della famiglia e dei nipoti di Albano, che si è definito, un elemento complementare, rispetto ai genitori, che considera eccezionali. Ha raccontato di quanto tempo dedichi ai suoi nipoti, che definisce fantastico, e ha lodato le loro capacità, dicendo che i più grandi parlano già quattro lingue, sciano, scalano montagne e nuotano. Per quanto riguarda i suoi prossimi progetti, Albano ha rivelato che sta lavorando a nuove iniziative musicali e televisive. Ma ha preferito mantenere il massimo riservo. Ha aggiunto che, anche se le sue vacanze non sono all'insegna del relax, la sua mente è sempre attiva e piena di idee. Ha concluso esprimendo la sua intenzione di continuare a concentrarsi sulla musica nei prossimi anni.